Ciao, oggi voglio parlarti della storia di Riccardo e della sua trasformazione che ha avuto nello scorso anno. Grazie per la visione! 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 di quest'anno da tutto quello che potresti spendere poi soldi quindi dall'integrazione sbagliata ai coach sbagliati agli allenamenti sbagliati. Supernatural è un programma annuale ma lo paghi una volta sola quindi fai un pagamento unico all'inizio e non ci pensi più. Per accedere ti lascio il link in descrizione spero di vederti presto all'interno nella pagina poi di vendita trovi tutte le informazioni comprese i benefici per chi è se fa per te oppure no c'è la sezione anche delle domande frequenti nel caso tu abbia dubbi come sempre puoi scrivermi anche su whatsapp se hai dubbi o domande riguardo trovi il numero sempre sul sito e ci vediamo dentro Supernatural. Ciao!